Un incidente stradale è avvenuto sulla strada statale 170 direzioni A per Castel del Monte attorno alle ore 18 e 30 di ieri sera. Un'auto, un Alfa Romeo Giulietta, con tre persone a bordo a poche centinaia di metri dal ristorante Montegusto, ha investito un grosso cinghiale che ha improvvisamente attraversato la careggiata. L'animale è rimasto esanime sulla sede stradale e l'auto ha riportato seri danni. Le persone che erano a bordo del veicolo sono state soccorse dagli agenti del nucleo di pronto intervento e infortunistica stradale del comando di polizia locale di Andria, intervenuti immediatamente sul posto. Le persone coinvolte, pur avendo riportato lievi lesioni, non hanno ritenuto di ricorrere subito alle cure dei sanitari del 118. Il tratto di strada interessato dal sinistro stradale è stato messo in sicurezza dagli agenti della polizia locale fino alla completa rimozione dalla careggiata tramite caroattrezzi del veicolo danneggiato e della carcassa dell'animale effettuato a cura del personale dell'ANAS. Dal comando le polizia locale segnalano che sono in aumento gli incidenti stradali causati dagli animali salvatici ed in particolare i cinghiali sulle strade extraurbane murgiane ricadenti nel territorio andriesi e quindi nella sfera di intervento del nucleo di infortunistica stradale che rileva gli incidenti stradali che si verificano a più di 15 chilometri dal centro urbano. Dal comando ci spiegano come la polizia locale fornisca assistenza e servizio qualificato all'utenza stradale in sostituzione di altri organi di polizia stradale in perenne carenza di organico anche se lo stesso corpo di polizia locale di Andria è fortemente sotto organico.